Sì, Bernie, this victory of Ferrari is very good for Formula 1, questa vittoria per la Ferrari è ottima per la Formula 1 Fantastic for me, I've been waiting for this for a long time, they deserve it, they should have won Monaco and they won here in good style and all these people that criticize Ferrari taking Schumacher can now shut up Thank you very much Ha detto che in effetti è una vittoria favolosa e eccezionale che dopo quello si aspettavano tutti il successo a Monte Carlo invece è arrivato qui però è proprio quello che ci voleva per la Formula 1 e la Ferrari ha fatto benissimo a prendere Schumacher